Qual è la parte più difficile quando ti trovi in una relazione che è emotivamente abusante? Cerchiamo anche di capire che cos'è una relazione emotivamente abusante. Immagina due amici che vanno in vacanza insieme e progettano le vacanze insieme e decidono anche quali posti vedere, decidono cosa fare. Poi partono e sono sullo stesso aereo e arrivano insieme e vanno nello stesso albergo. Però uno ha prenotato una camera per sé e ogni tanto va in quella camera e ogni tanto decide di passare le giornate per i fatti sua e questo ogni tanto diventa spesso e comincia a farsi una sua vacanza per i fatti suoi e tu rimani lì un po' spaesato, non sai cosa fare, non sai come comportarti, cerchi in qualche modo di andargli incontro e di convincerlo a fare quello che avevate detto di fare insieme. Una relazione emotivamente abusante è esattamente così che funziona, con una differenza, una differenza molto importante e cioè che quella non è una vacanza ma è la tua vita. Questa persona ti ha preso in giro, ti trovi in una situazione in cui ti mente, in cui dici, fa promesse che poi non mantiene, ha fatto sì che si creasse l'illusione di una relazione, una relazione basata su determinate emozioni, ma poi succede che in realtà pensa esclusivamente ai suoi bisogni, i tuoi vengono molto dopo, non ammette critiche e invece nei tuoi confronti è estremamente generoso in termini di critica, ma può avvenire anche sul lavoro. Pensiamo a tutte le situazioni in cui io sì ti convinco che questa è una fantastica occasione, ma poi una volta che tu sei al lavoro improvvisamente ti tratti in una maniera molto diversa e sappiamo quanto implichi cambiare il lavoro, quanto implichi nella nostra vita in termini di scelte, di impegno, anche perché molte persone si impegnano nelle cose per fare ciò che dicono, che è una delle cose più difficili fare ciò che si dice e c'è chi si approfitta di questa tendenza che invece dovrebbe essere stimata. Pensiamo a tutte quelle situazioni in cui per varie esigenze di vita le persone organizzano la propria esistenza, dandosi dei ruoli molto definiti, capisco che sia sempre più fuori moda, ma alle volte le esigenze di una famiglia impongono dei ruoli e poi un giorno la persona dice no, guarda, basta, io non ho più voglia di stare a queste regole e sono anni passate a costruire la propria vita in un certo modo e improvvisamente si cambiano le regole del gioco unilateralmente. Non importa arrivare ai casi di maltrattamento per trovare l'abuso emotivo. La persona emotivamente abusata si sente frustrata, osata, inutile, si sente incapace, la sua autostima va a livelli molto bassi, può avere problemi di ansia, di depressione, può fare dei pensieri che alle volte sfiorano i persecutori. In queste situazioni, che sono situazioni di forte stress, l'essere umano fa quello che fa quando è sotto forte stress, cioè continua in perterrito a fare quello che ha sempre fatto. Quando sei in una situazione di stress, quello che fai è continuare a fare quello che ti ha stressato, stressandoti ancora di più. Quando sei in una relazione emotivamente abusante, tendi a dire no, cavolo, la partenza è stata diversa, i primi tempi sono stati diversi, voglio riportare tutto lì. Convinci te stesso, te stessa, che lo puoi fare, cerchi di convincere l'altra persona, che poi scopri, ti rendi conto, in qualche maniera intuisci che ha già deciso come dovranno essere le cose. Inizia a subodorare qualcosa che non ti piace, e la parte più difficile è ammettere che quella relazione è abusante, è ammettere con se stessi che sì, ti sei lasciato raggirare, ti hanno raggirato, magari sono stati bravi a farlo, ma fondamentalmente tu ci hai creduto. E questo ti scoccia terribilmente, ti scoccia ammettere che stai vivendo un'illusione. Molte di queste illusioni, molte di questi abbagli, arrivano quando tu speravi di cambiare vita, speravi in una svolta, vivevi un momento di forte crisi e speravi in qualcosa che potesse aiutarti. Ecco, e quella cosa capita. Ma chi è? È una persona che ammuse emotivamente di te. Sono persone dalle quali ci aspettiamo che ci dovrebbero amare, dalle quali quindi ci aspettiamo amore. Alle volte sono gli stessi genitori che usano i figli per le proprie esigenze, oppure che per ottusità, eccessiva rigidità o incapacità oggettiva finiscono a non rendersi conto che ci sono delle individualità dall'altra parte, che vanno rispettate, anzi non solo, non basta rispettarle. In alcuni casi, se sei genitore, devi aiutarle ad emergere, a fiorire. Quando le cose non vanno in questa direzione, allora tu cominci a pensare che è colpa tua. Ecco, la tua colpa è non ammettere che sei in una relazione emotivamente abusante. E' l'unica colpa che ti puoi dare. E' anche difficile ammettere di essere in una relazione emotivamente abusante. E se ci pensi bene, alla fine è anche naturale cercare di fare di tutto per cambiare le cose, perché è anche normale lottare per ciò che si ama. Bisogna ammettere a volte di essersi innamorati di un'illusione. E questo è davvero, davvero doloroso. Per cui, sì, la cosa più difficile quando si è in una relazione emotivamente abusante è ammettere di essere in una relazione emotivamente abusante. Lascia un tuo commento può essere di aiuto a molte persone che stanno vivendo una situazione come questa.